Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in via Sardo a seguito della segnalazione di un furto in atto di un'autovettura commesso da una persona vestita con abiti scuri. I poliziotti giunti sul posto hanno subito individuato e bloccato l'uomo corrispondente alle descrizioni fornite. Dai primi accertamenti, gli agenti hanno appurato che il soggetto, poco prima del loro arrivo, aveva danneggiato la cappotta di un'autovettura. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l'uomo ha rilasciato dei dati che hanno insospettito gli operatori che, pertanto, lo hanno accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento e l'identificazione. All'esito delle operazioni è emerso che il soggetto, un 46enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha effettivamente fornito delle false generalità. Inoltre, è risultato essere destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione sempre per reati contro il patrimonio, dovendo scontare una pena di un anno, un mese e 26 giorni. Pertanto, l'uomo è stato tratto in arresto e, dopo aver informato il pubblico ministero di turno, è stato accompagnato dai poliziotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Al contempo, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità personale.